Oggi parliamo di una nuova controversia nel mondo dello spettacolo. Loredana Lecciso vuole querelare Romina Power. Il motivo? Un post apparso a nome della Lecciso sul profilo social di Romina, relativo alla gravidanza di Christel Carrisi, che si è rivelato essere falso. Prima di addentrarci nei dettagli, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le ultime notizie e aggiornamenti esclusivi. Loredana Lecciso è furiosa per un post apparso a suo nome sul profilo Instagram di Romina Power, l'ex moglie di Albano. Il post in questione, pubblicato il 3 marzo e poi cancellato, annunciava la dolce attesa di Christel Carrisi, figlia di Albano e Romina. La didascalia recitava, post interessante. Ma come si permette? Loredana Lecciso ha deciso di agire legalmente contro Romina Power. La 45enne ha incaricato i suoi legali di porre in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale. Loredana sostiene che il post fosse altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine sua. Loredana Lecciso ha affermato che il post è verosimilmente attribuibile ai gnoti e che non proviene da lei. Ha aggiunto che il post è stato una indebita appropriazione della sua identità. Questo ha scatenato la sua reazione decisa a querelare Romina Power, chiedendo come il post si è finito proprio sul profilo dell'ex moglie di Albano. Cosa ne pensate di questa controversia tra Loredana Lecciso e Romina Power? Credete che ci sia stata davvero una malintenzione o pensate che si tratti di un malinteso? Faccelo sapere nei commenti. La tua opinione è importante per noi e può stimolare un interessante dibattito tra i nostri spettatori. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video sulle ultime notizie. Il vostro supporto ci aiuta a continuare a portarvi le storie più incredibili aggiornate.